Professoressa Colombo, si può dire che il ruolo della chemioterapia tradizionale è al capolinea ed esistono nuove opportunità di cura per il tumore ovarico? La chemioterapia rimane comunque il cardine della terapia medica del carcinoma ovarico, quindi assolutamente c'è ancora e continuerà ad esserci. Quello che forse è arrivato al capolinea è la possibilità di scoprire nuovi farmaci chemioterapici efficaci, però adesso c'è questa strada nuova delle terapie mirate che sono sicuramente anche finalmente per il tumore ovarico una realtà. Mi riferisco soprattutto a due categorie di farmaci, i farmaci antiangiogenici che colpiscono la vascolarizzazione del tumore e questi sono una realtà perché il farmaco Bevacizumab è in commercio, è disponibile oggi come oggi per le donne con il carcinoma ovarico, trattate in prima linea, ma anche ci sono nuovi farmaci emergenti come alcuni farmaci che si chiamano appunto inibitori di PARP che è un enzima del riparo del DNA e questi farmaci sono particolarmente efficaci soprattutto in quelle donne che hanno quella predisposizione genetica allo sviluppo del tumore ovarico e della mammella determinata dalla mutazione di alcuni geni che si chiamano BRCA1 e BRCA2.